buon pomeriggio a tutti io devo innanzitutto scusarmi per il ritardo avevo previsto che questa diretta cominciasse alle 16 sono invece le 16 e 30 è il 22 di giugno come potete vedere dal come dire dal setting differente dal solito non sono a casa né a roma né a milano sono a venezia in un albergo sto per andare a fare una iniziativa mestre anzi se siete in zona ovviamente vi invito moltissimo essere lì ci vediamo al palco a mestre credo le 17 30 quindi tra giusto un'ora e però tenevo moltissimo essere con voi anche quest'oggi e devo dire che la prima cosa che mi piacerebbe dirvi tra l'altro ricordandovi di condividere questo video di questa diretta ma anche il video registrato che poi resterà naturalmente su la mia pagina facebook ma anche sul mio sito ivanscalfarotto.it e su youtube diciamo la prima cosa che volevo raccontarvi oggi e di queste parole di michele serra che ho letto sulla sua maca di oggi che mi hanno colpito molto mi hanno colpito perché molte persone mi hanno chiesto per quale motivo io abbia deciso di fare queste dirette e per quale motivo abbia deciso di farle tutti i giorni anche il sabato la domenica insomma di esserci di aver aperto un canale con le persone il più diretto possibile che ovviamente si unisce poi ai viaggi che faccio alle iniziative che faccio a milano in altri posti e nessuno credo ha trovato parole migliori di quelle che ha trovato michele serra quest'oggi infatti michele serra nella sua amaca parla dei temi della maturità che sono stati dati ieri sapete temi molto belli le pagine del giardino dei finzi contini di bassani un tema sulla uguaglianza sul principio di uguaglianza nella costituzione è un tema sulla solitudine temi in qualche modo in controtendenza e serra chiude la sua amaca con queste parole che mi hanno praticamente folgorato dice michele serra quello che si pensa e si dice quando la storia ci mette in minoranza non è meno importante è più importante e io penso esattamente che le cose stiano così e lo dico spesso lo dico alle persone che incontro in questi giorni guardate in un momento nel quale oggettivamente esiste una sorta di come dire luna di miele tra il governo giallo verde il paese i media per cui come dire certi messaggi anche i peggiori più brutti più orribili quelli appunto che lasciano 629 migranti a largo le schedature etniche il tutto poi fa il paio con i bambini separati dai dai genitori negli stati uniti insomma in un momento in cui l'onda di melma sembra montante nel mondo l'errore più grande che possiamo fare non soltanto noi politici ma anche voi nostri concittadini è quello di pensare che le idee di inclusione di rispetto di uguaglianza di apertura che abbiamo predicato per tanto tempo nelle quali abbiamo creduto che ci hanno identificato ecco quelle idee debbano essere messe in sordina o debbano essere rimosse perché non sono più abbastanza popolari io penso che si debba fare assolutamente il contrario la decisione di essere ogni giorno in diretta con voi è proprio per prendere uno spazio poter riaffermare quei valori e credo che questo dobbiamo farlo tutti lo possiamo fare nei modi più vari parlando con i colleghi di lavoro parlando con gli amici rintuzzando frasi orribili che un tempo non si portavano in società prima dire frasi razziste le si pensava e ci si vergognava probabilmente oggi sono come dire all'ordine del giorno ecco anche rintuzzare la frase razzista del collega di lavoro io penso che sia un atto altamente politico che ciascuno di voi può fare in questi giorni o anche non so se siete pendolari sui treni o in ascensore negli uffici in qualsiasi luogo perché come dice serra quando la storia sembra metterci minoranza quello che pensiamo quello che diciamo non è meno importante di prima è più importante di prima e quindi se non vi fidate di me fidatevi almeno di michele serra detto questo a proposito di messaggi e sceni c'è questa vicenda saviano salvini che è orribile io devo dire la verità non sempre sono stato d'accordo con saviano penso che saviano sia stato insieme a una marea di intellettuali giornalisti anche un po la concausa secondo me di questa di questo successo della lega e del movimento 5 stelle noi del pd siamo stati dipinti un po come si dice come diceva jessica rabbit non sono così male ma è così che mi disegnano siamo stati dipinti come non so cosa dire come un accolita di banditi al timone del paese io io credo che il nostro lavoro in questi anni sia stato un buon lavoro con tutte le difficoltà che c'erano con con il paese che abbiamo ereditato nel 2000 nel 2013 con le difficoltà economiche che c'erano le riforme da fare un parlamento che non partiva e quindi con tutti i limiti io non voglio suonare la fanfara però voglio affermare che probabilmente i giornali anche quelli di sinistra anche quelli più liberal e intellettuali come saviano hanno caricato sul partito democratico delle responsabilità e hanno dato di noi un'immagine che sicuramente è stata una delle concause della nostra sconfitta con tutti i nostri ripeto con tutti i nostri limiti ma un'altra una delle varie con cause della sconfitta e evidentemente di quel senso di antipolitica che poi ha dato a come dire ha gonfiato le vele del movimento 5 stelle e della lega però detto questo posto che poi saviano per tante altre cose mi piace che saviano mi piaccia oppure no come diceva come si dice volterrianamente sono in disaccordo con tutto quello che dice ma darei la vita perché tu possa continuare a dirlo ecco questo governo giallo verde è tutto il contrario di volter perché evidentemente quando si mette in discussione la sicurezza di una persona come roberto saviano che ripeto piacere o non piacere ma sicuramente una persona che ha dato dei messaggi estremamente coraggiosi che si è esposto in prima persona e che rischia la vita tutti i giorni perché le minacce alle quali è stato sottosoggetto sono come dire note e sono estremamente serie ecco quando si mette in dubbio una scelta che tra l'altro attenzione non è una scelta politica cioè la scorta non è una decisione politica la scorta è una decisione tecnica che danno gli specialisti del ministero dell'interno sulla base della veridicità e della serietà delle minacce e quindi il ministro degli interni ancora una volta io lo dico dell'interno anzi io lo dico ancora una volta perché insisto su questo ha un ruolo molto specifico che è quello di garantire la sicurezza di tutti i cittadini e il funzionamento del meccanismo elettorale quindi è un po l'arbitro di tutta una serie di meccanismi istituzionali molto importanti e salvini deve rendersi conto che lui ha scelto di stare in quella posizione alviminale che deve essere all'altezza di quella posizione alviminale cominciando a fare il ministro dell'interno soprattutto più che il segretario di partito poi capisco benissimo insomma non sono non dormo e capisco benissimo che questo suo attivismo anche in vista dei ballottaggi di domenica ha un significato di campagna elettorale però qui c'è un paese da difendere un paese da difendere del quale Roberto Seviano è un cittadino e la scorta gli va tenuta e sottolineo peraltro che avere la scorta non è un privilegio non è un lusso avere la scorta è una condanna perché significa io non ce l'ho e prego laicamente non essendo credente di non averla mai una scorta perché io sono affezionatissimo alla mia possibilità di andare in bicicletta di prendere il tram di andare a fare la spesa al supermercato di andare a trovare degli amici senza preavviso e quella è una limitazione della libertà che chi ce l'ha che chi ha sa benissimo essere tutto il contrario di uno status simbolo e tutto il contrario di un privilegio quindi questa è una discussione orribile una delle varie discussioni irribili che ci siamo trovati a dover ascoltare e io voglio riaffermare da un lato la solidarietà a Saviano solidarietà ovviamente di concittadino nei confronti di chi rischia la vita per il coraggio delle proprie opinioni e ancora una volta il disgusto non so più trovare dei sostantivi per descrivere i miei sentimenti nei confronti delle esternazioni del ministro degli interni e vicepresidente del consiglio Matteo Salvini. Nel frattempo l'Italia è sempre più isolata in Europa sempre grazie alle politiche di Salvini il quale sta tessendo un asse prioritario con i paesi cosiddetti di Visegrad quindi Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Polonia e ovviamente con la complicità secondo me anche abbastanza dell'Austria e anche del ministro degli interni tedesco c'è un tema che sta vedendo una discussione che sta mettendo in crisi anche il principio della libera circolazione nell'area Schengen con minacce contro minacce di chiusura dei confini terrestri tra i vari paesi ma la cosa che ho da dire è che tra l'altro è scoppiata una grande polemica col presidente della Repubblica Francese e che noi ci troviamo ad avere una posizione super dialettica per non dire diciamo di aspro contraddittorio con i nostri paesi amici alleati e ci stiamo mettendo nelle braccia di paesi che non hanno mai dato una mano all'Italia che non hanno nessuna intenzione di prendersi dei rifugiati o dei migranti addirittura Orban in Ungheria sapete vuol mettere sta mettendo in costituzione il divieto di accogliere dei migranti e quindi questa è una tattica che io non so come definire se non suicida perché ci stiamo consegnando mani e piedi ai nostri peggiori nemici soltanto per ragioni diciamo la verità puramente ideologiche perché diciamo così queste persone questi governi sono xenofobi più o meno come il nostro quindi c'è un come dire una corrispondenza di sentimenti o di ideologie ma dal punto di vista dell'interesse nazionale questa strategia di Salvini è evidentemente perdente. L'ultima cosa prima di chiudere e scappare a Mestre perché c'è un Marco Caberlotto che mi ha invitato qui che mi aspetta il reception che secondo me sta guardando l'orologio e soltanto ricordare che appunto ieri sono state finalmente nominate gli uffici di presidenza delle commissioni quindi le commissioni cominceranno a lavorare dalla prossima settimana vi raccontavo del nuovo presidente della commissione affari costituzionali Brescia ieri ma ovviamente i giornali oggi hanno riportato moltissimo anche della nomina dei presidenti delle commissioni economiche di Borghi alla commissione bilancio della camera di Bagnai alla commissione finanze del senato e di Carla Ruocco nella commissione finanze della camera dei deputati. Tutte nomine che hanno preoccupato i mercati lo spread sta ancora risalendo e si delinea quella sorta di dualismo quella distonia tra le parole del ministro dell'economia Giovanni Tria e invece quelli di questi personaggi che pur non essendo entrati al governo occuperanno delle posizioni molto importanti perché i presidenti di commissione soprattutto nelle commissioni bilancio hanno un ruolo fondamentale nel processo di approvazione della legge di bilancio quindi vedremo che ruolo avranno però certo in questo momento è chiaro che i mercati stanno osservando l'Italia con grande cautela con grande attenzione con grande sospetto mi viene anche da dire e Tria lo ha detto più volte molto bene un paese indebitato come il nostro vive della fiducia dei mercati perché lo spread che sale vuol dire dover spendere di più in interessi e quindi togliere risorse a operazioni che possono essere fatti a fatte in sostegno della società dei servizi e di tutto quello di cui c'è bisogno nel nostro paese io mi fermo qui vi do appuntamento per domani alle ore 17 e sabato quindi come al solito facciamo una cosa un po più tarda per consentirvi di consumare il pasto con i vostri cari io vi ricordo come al solito di pigiare su condividi qui sotto il mio faccione in modo tale da poter allargare il gruppo degli amici che mi seguono e ovviamente vi ricordo di lasciare commenti domande lì nei commenti di facebook io poi torno questo video resterà sulla mia pagina facebook su ivanscalfarotto.it il mio blog e naturalmente anche su youtube io vi saluto quindi da venezia ci vediamo domani e buon fine settimana a tutti ciao